E Francesco dice, questo io voglio, questo voglio fare, questo mi aspetto che il Signore mi abbia detto, l'ha detto anche per me, solo per me oggi, questo io chiedo, Signore, questo desidero, questo bramo di fare con tutto il cuore. Bene fratelli, che il Signore veramente conceda uno spirito di ascolto, il popolo di Israele è chiamato anche il popolo dell'ascolto, è Gesù che un giorno uno scriva che chiede, qual è il primo dei comandamenti, di primo di tutta la legge, tutta la Bibbia, qual è il primo dei comandamenti? Gesù comincia, Shema Israel, ascolta Israele, il Signore è Dio tuo, eccetera, ama il prossimo, eccetera. Shema Israel, ascolta, Signore che ti parla, parla al tuo cuore stasera, perciò ti ha voluto qui, in disparte. Allora anche tu, come Francesco dici, questo io desidero fare, questo ho ascoltato, questo con l'aiuto dello Spirito Santo e anche l'intercessione di Francesco e di Padre Pio voglio mettere in pratica, senza indugio, con la forza che viene dello Spirito Santo e con l'entusiasmo giovanile. Amen.